Top 10 Pietro Galassi, per niente al mondo Castellina Pasi, Luna d'Oriente, la nuova versione, cantata da Elena Camarrone Anna Maria Allegretti, Libera Roberto Polisano, dagli il tuo amore Ora passiamo al ballo di gruppo del mese di luglio Il ballo di gruppo del mese di luglio di Liscio.1 è Gianni Drudi, Sporcati le mani Sporcati le mani, sporcati le mani, non arrossire Sporcati le mani, sporcati le mani, come due bambini Scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni 5 Matteo Bensi, Acqua e Sapone 4 Rossella Ferrari e Casanova, Il Canto del Mar Al terzo posto c'è Omar Lambertini, Un Amore Così Al secondo posto c'è La coreografia di Easy Dance Celleno, di Amore Capoera, di Takagi Ketra Primo posto per L'orchestra italiana Bagutti, Splende la Luna Blu Scarica adesso l'app di Liscio.1 e ascoltaci ovunque dal tuo smartphone e tablet Resta sempre aggiornato sul mondo della musica da ballo Segui la pagina Facebook di Liscio.1 Segui la musica da ballo italiana C'è Samicy.1 C'è Samicy.1 C'è Samicy.1